Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi, oggi abbiamo una schiena nuova che si è stata volontaria, e andiamo a fare un po' di robine che adesso vi spiegherò, e state pronti? Anche la parte in cui faremo tracing sul tatuaggio, e se vi piacerà ditemi se vorreste un video dedicato al tracing sui tatuaggi, le ne ha 6, 7, 6, 6, 6, e niente, adesso vi faccio un po' vedere, e godete il video, ciao! Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi, oggi, come davo richiesto, un altro video massaggi, questa volta abbiamo una schiena diversa come vedete, anche solo il tatuaggio, oggi faremo un po' di back scratching, quindi un grattini con le unghie, poi un po' di grattini con il grattaschieno, in questo modo, mi piace molto quando si va verso il collo, anche così. Poi, visto che ci sono già i segni della bronzatura, andiamo a mettere un pochino di cremetata, e poi ovviamente, andiamo a fare un po' di brushing, qui in questo tipo ventaglio, super morbido, che secondo me è perfetto. Quindi, io direi che possiamo cominciare, e cominciamo con un semplice micromassaggio, anche verso il collo, che sto tagliando un po' di pedra, non fa niente. Anch'io, vedete? Anch'io, sin da fondatura. E dopo farò anche un pochino di tracing qui sopra, perché è un tatuaggio stupendo, ovviamente, ovviamente nel modo da ricaricarlo, non posso non approfittarne. lo vedrete, ma scritto, ponderai qui e poi anche delle farfalle qui sotto, ma lo vedete? qui. Partiamo con, proprio applicando pochissima pressione, qui. E poi scendiamo, qui. e poi scendiamo. Mi piace tantissimo anche seguire la corona vertebrale. prendiamo il primo pannello. e partiamo dall'alto. e andiamo lentamente. e andiamo lentamente. andiamo la spalla. lentamente, lungo un altro. ti vedo il prevedino. ti vedo il prevedino. andiamo sul... lungo il tatuaggio. e poi lungo tutta la schiena. non sto applicando l'alto. non sto applicando l'alto pressione. in modo che... sia un mezzo massaggio, un mezzo solidichino e rilassante. non sto applicando l'alto pressione. non sto applicando l'alto pressione. e ancora li prendiamo nel collo. non sto applicando l'alto pressione. e poi... non sto applicando l'alto per la stagione. non sto applicando il, al per la stagione. ma questa, è assolutamente facile. non sto applicando l'alto pressione. ma questa, è assolutamente facile. E' un'altra parte. E adesso vediamo se ora ne metterò un po' di crema qui sopra Guarda Adesso prendo questa crema Che è al tè verde Che è un tipo di luce Che ha un odore anche molto bello Ed è abbastanza corposo Non troppo ma neanche troppo di quello E partiamo con un pochino E poi in caso ne aggiungiamo Delle ultime pelle Mi comincio a spalmare C'è un amore tondo di più Allora 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 andiamo un po' qui sotto e dall'altra parte approfitto il fatto che la crema sia un po' peggie cosetta per farvi sentire le dita sulla schiena la crema sia un po' peggie cosetta per farvi sentire le dita la crema sia un po' peggie cosetta per farvi sentire le dita la crema sia un po' peggie cosetta per farvi sentire le dita Adesso di nuovo Sono indecisa però Il grattaschino, il pennello, tu cosa preferisci? Il grattaschino Il grattaschino? Questo qui viola Questo qui? Quale era stata prima? Ah ok, ha scelto lei Quindi, cominciamo Ho un attaccato a una di capelli Io sono strafissata con questo punto Perchè è uno dei punti che mi abbassa di più L'abbiamo tipo qui Siamo qui Anche qui Perchè andiamo giù Perchè andiamo giù Allo per fare un mezzo e per l'altra parte questo è letteralmente tipo taschina secondo me può essere usato anche quando si ha un gesso e si si vede a tardi qualche po' che non si vede mai capitato ma mi faceva un po' riducoso e adesso un po' a casa vediamo un po' di onde un po' a casa un po' a casa e ancora un'altra volta un po' a casa e adesso per concludere vi faccio il tracing sul tatuaggio e poi la buonanotte ok? adesso andiamo a fare del tracing preciso tutto l'altro con questo attrazzino che in realtà è per fare le punte dello smalto le puntine dello smalto ok bello complicato intanto provo a spiegarvi cos'è è una lingua esotica la regia mi dice è una specie di sottolingua del polinesiano tailandese tailandese la cosa è genere ed è un auguri di buona vita in 1, 2, 3, 4, 5 campi diversi come amore lavoro immagino giusto? famiglia famiglia è stranissimo provare a capire non so come anche sia composto una parola o una lettera perché è totalmente diverso rispetto al nostro orfoglietto terza ad esempio secondo voi questi qui sono di questa riga di questa soprattutto questi qui noi so ok ho avuto delle c le s tre m z andiamo al quarto Questa è il cuore 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 Questa è il cuore